Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio. In questo video ti parlerò di un elemento molto importante che è il ghiaccio al bar. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di Amaro Satrio, Liquori Pineda, Vermouth Mita, Liquori Fore e FNU che è in arrivo, ma ora andiamo a scoprire qualcosa di più in merito al ghiaccio al bar. Sigla! Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, dindon! Ti invito anche a dare un'occhiata agli altri nostri canali social, Instagram e Facebook sempre con il nome El Giardino Sotto il Naso, dove pubblichiamo regolarmente materiali diversi appunto da quelli del canale YouTube. Ti invito anche a dare un'occhiata sempre alle descrizioni di tutti i nostri video in quanto oltre a descrivere il video stesso pubblichiamo anche eventuali aggiornamenti, ma veniamo a noi! Questo è un video molto importante e tra l'altro si parla di un elemento che a volte viene trascurato, che è appunto il ghiaccio. Il ghiaccio è l'elemento che assolutamente non può mancare al bar e ti racconterò un paio degli aneddoti dopo. Intanto il ghiaccio che cos'è? Te la racconto in maniera molto molto semplice, non è altro che acqua fondamentalmente congelata. Quindi a che cosa serve? Questo è molto importante. Il ghiaccio serve per quattro cose, anche se nei corsi di formazione se ne menziona soltanto tre in realtà. Quindi è raffreddare, diluire e miscelare. Io aggiungo anche una quarta che è quella di fare delle cose molto fighe. Cosa intendo con questo? Perché il ghiaccio ci consente di creare dei contrasti cromatici, quindi anche per esempio delle trasparenze nel bicchiere. Ci consente di fare scenografia quando andiamo a provare a raffreddare il bicchiere, quando andiamo a miscelare appunto con la tecnica stir. Oppure ci consente di creare appunto emozione quando andiamo a scegherare, quindi il rumore stesso. Quindi secondo me, oltre al fatto proprio tecnico del drink, crea anche qualcosa insomma di scenografico. Perché si dice non esiste raffreddamento senza diluzione? La diluzione in che cosa consiste? Fondamentalmente non è altro che un ghiaccio che si scioglie, perché gli ingredienti che andiamo a mettere, che ne so, un qualsiasi tipo di ingrediente di questi qui, alcolico o analcolico, di solito sono ad una temperatura diversa dallo zero, quindi da zero gradi. Quindi quando andiamo a versare gli ingredienti, il ghiaccio chiaramente è molto più freddo e quindi c'è questa reazione che tende appunto a diluire, quindi il ghiaccio tendrà a sciogliersi e tendrà a diluire appunto gli ingredienti. Non so se hai mai provato a bere un Negroni senza diluzione, è veramente, quindi prova a versare un terzo, un terzo, un terzo dei vari ingredienti che conosci già e berlo senza ghiaccio. Ti assicuro che è veramente impegnativo, quindi la diluzione serve, è vero, a raffreddare ma serve anche appunto a rendere il drink più gradevole da bere. La temperatura invece è molto importante perché si mette spesso tanto ghiaccio nei bicchieri? In realtà i motivi sono svariati. Il primo è perché la temperatura fredda tende a fare percepire di meno quelle che vengono chiamate dai sommelier le morbidezze, ossia il dolce ma anche la parte alcolica per esempio. Quindi che cosa succede? Prova a fare un test. Se bevi una bibita gassata per esempio, ci sono delle bibite che sono veramente molto dolci. Hai mai provato a bere una Coca Cola o una Red Bull a temperatura ambiente? Fa veramente, diciamo che è difficile da bere, ok? Perché ti scrivono sempre in etichetta bevilo freddo, bevilo ghiacciato? Ma questo succede anche per molti amari o liquori che viene appunto scritto bevilo ghiacciato, bevilo freddo, proprio perché la temperatura fredda fa percepire di meno la parte diciamo dolce, lo zucchero in questo caso, e quindi tenderà ad essere più beverino. Prova a berlo appunto a temperatura ambiente e vedrai che non sarà, sarà un dolce stucchevo e non riuscirà a berlo. Motivo numero due è appunto quello che dicevo dell'alcol. Questa è una cosa più collegata tra virgolette alla vendita, quindi al marketing. Questo succede per esempio quando, per esempio in estate, hai un bel bicchierone pieno di ghiaccio ma ti fanno un bel drink comunque, è pieno di ghiaccio, tu riesci a berterne, anche se fa caldo fuori, riesci a berterne due o tre, immagino insomma in un locale, o se sei in discoteca, o se sei in spiaggia, non lo so, te ne fai due o tre se sei abbastanza tranquillo. Prova a bere invece due o tre bicchieri, diciamo a temperatura, cioè senza ghiaccio, e vedrai che l'alcol ti sale subito in testa e magari te ne fai uno, il secondo farai difficoltà. Questo succede senza andare nell'ambito della miscelazione, per esempio con il vino rosso. Perché d'estate per esempio si fa fatica a vendere, quindi a bere di conseguenza del vino rosso? Perché il vino rosso, se tu te lo bevi a temperatura ambiente, appena te lo bevi ti sale subito in testa. Quindi invece il vino bianco, proprio perché viene servito freddo, non è che non ti sale in testa, perché la creatazione alcolica è, diciamo, spesso è anche uguale, no? Però, cos'è che succede? Che succede che il freddo ti fa percepire di meno l'alcol, quindi te lo fa salire, diciamo, in testa in maniera un po' più graduale e questo ti dà la possibilità di fartene bere due o tre. Quindi dal punto di vista di marketing è funzionale. Ultimo punto è appunto la miscelazione, quindi aiuta i cubetti appunto all'interno, immagina una tecnica stile per esempio con un Manhattan, un Martini o anche un negrone per esempio nel bicchiere stesso, quando andiamo appunto con il bar spoon a girare il ghiaccio, il ghiaccio girando attraverso il liquido aiuta appunto a miscelare meglio gli ingredienti. Stessa cosa per quanto riguarda invece la shakerata, il ghiaccio in maniera più energica va da una parte all'altra dello shaker, per esempio, quindi del Boston, per esempio, e in questo movimento attraversa il liquido e fa quello che serve appunto, che abbiamo detto, miscelazione, raffreddamento e diluizione e chiaramente l'effetto scenografico di cui vi ho parlato più. Tipologie di ghiaccio, di tipologia di ghiaccio ce ne sono diversi, di diversi tipi, c'è quello che va un po' di moda adesso che è il chunk, quindi il pezzettone di ghiaccio che poi se lo spezzettano e se lo lavorano, molto bello, anche se diciamo richiede del lavoro in più. Poi abbiamo i cubetti, i cubetti di ghiaccio possono essere appunto di varie forme e può essere appunto a forma di cubo, può essere a forma di, insomma, diverse a fungo, quello che è a seconda della macchinetta del ghiaccio e del produttore di ghiaccio, può essere pieno o può essere cavo e poi c'è un altro passaggio che è legato appunto al ghiaccio che è tritato o il ghiaccio a scaglie. Mi è capitato più di qualche volta che magari in qualche cocktail bar mi è stato chiesto, o per qualche catering, mi è stato chiesto ma preferisci il ghiaccio a scaglie? Il ghiaccio a scaglie è quello che si usa per capirci per il pesce fondamentalmente, quindi quello che viene messo sotto il pesce. Il problema del ghiaccio a scaglie è che è troppo sottile e quindi tende proprio a sciogliersi molto velocemente. Chiaramente poi ci sono varie forme e grandezze, anche quindi ci può essere come dicevo prima, il cubo, ci può essere la sfera, adesso ci sono delle presse che plasmano proprio il cubetto di ghiaccio proprio a forma anche di cristallo e quant'altro che sono bellissimi, ecco perché ritorno a dire è anche un effetto, contribuisce appunto anche all'effetto scenografico. Importante anche dire il fatto che la superficie di contatto che è un concetto che spiega molto bene Giovanni Ceccarelli nel suo articolo molto tecnico appunto riguardante il ghiaccio che è appunto la superficie di contatto. Questo significa che più è piccolo il cubetto di ghiaccio, diciamo più è piccolo il pezzetto di ghiaccio più superficie c'è che va a contatto con il liquido e questo consente un raffreddamento molto più veloce. Dall'altra parte accelererà anche il processo di diluzione per cui più è piccolo il ghiaccio e più tenderà a sciogliersi velocemente. Quindi bisognerà trovare il giusto equilibrio, tutto dipende sempre in base alla tipologia di drink che vogliamo fare e insomma ci sono vari fattori che contribuiscono appunto alla selezione del ghiaccio stesso. In ultimo c'è il ghiaccio secco che è appunto un falso ghiaccio nel senso che non è ghiaccio fatto da acqua ma è anidride carbonica appunto ghiacciata ed è a meno 78. Questo ha un effetto prettamente scenico. Non so se hai presente quella cosa che diciamo che fa uscire il fumo che sembra tipo fumo quello è ghiaccio secco ma ripeto è prettamente a scopo estetico. Il ghiaccio appunto è un elemento che come dicevo non può mancare infatti come ti accennavo all'inizio ci sono state solo un paio di occasioni insomma nella mia carriera dove sono andato in difficoltà infatti ti sei mai chiesto cosa succede se finisce il ghiaccio? Devi chiudere il bar! Eh sì! Infatti mi è successo solo due volte una volta al passo del tonale insieme a Gaetano che saluto tra l'altro e avevamo un gruppo di medici norvegesi e noi c'eravamo messi insomma un po' di ghiaccio da parte un po' di scorta eccetera eccetera però questi bevevano veramente tantissimo tant'è che a un certo punto eravamo in questo albergo 5 stelle lusso a un certo punto eravamo a tre quarti di serata e il ghiaccio finisce era appunto stagione invernale perché eravamo appunto sul lì al passo del tonale in questo hotel che si chiama grande hotel paradiso e a un certo punto finisce il ghiaccio e avevamo due scelte o chiudere il bar quindi dire signori mi dispiace non abbiamo più niente oppure l'altra opzione era andare a prendere la neve dal tetto e così abbiamo fatto quindi grazie a Gaetano che scendeva con questi secchioni di neve appunto fresca e quindi siamo andati avanti con la serata con la neve l'altra volta invece è stato a Felline qualche anno fa con il nostro bar catering e abbiamo fatto il calcolo del ghiaccio anche in maniera abbondante ma non pensavamo che la serata andasse così bene tra virgolette e quindi abbiamo finito il ghiaccio a un certo punto e abbiamo dovuto dire signori mi dispiace ma il bar è chiuso perché se ci fai caso proprio per i motivi di cui ti parlavo in precedenza se non hai il ghiaccio praticamente non puoi fare niente soprattutto d'estate dove appunto i drink devono essere per forza freschi ultimo passaggio ghiaccio buono e ghiaccio caccapupù cioè ghiaccio non buono per ottenere appunto un ghiaccio trasparente è importante avere un'acqua pura quindi o meglio un'acqua priva di impurità che possono essere appunto calcare e tante altre cose quindi più è pura l'acqua più il ghiaccio appunto risulterà trasparente per ottenere questo diciamo che la soluzione più facile è quella di comprarlo quindi ci sono le aziende che vendono questo ghiaccio e sei a posto e in realtà se ci hai fatto caso nei primi video appunto del nostro canale io utilizzavo appunto del ghiaccio fatto in casa ma si nota in realtà utilizzavo quello perché non pensavo che poi il canale prendesse questa piega quindi che andasse così bene quindi utilizzavo il ghiaccio di casa però si nota in realtà lo notate anche in alcuni locali di quelli un po più diciamo terra terra che hanno il produttore di ghiaccio magari con un'acqua che non è filtrata e quindi ritrovate questi cubetti di ghiaccio che sono biancastri e tipo questi insomma che stai vedendo in questo momento questo è un cubetto di ghiaccio appunto fatto a casa con la vaschetta però questo appunto dal punto di vista visivo non va bene perché appunto quando vedete un ghiaccio così biancastro vuol dire che l'acqua non è buono oppure che l'acqua non è depurata bene insomma ci sono un po' di problemi quindi meglio evitare e poi così come dicevo essendo un'acqua impura quando si scioglie quelle impurità vanno a finire nel tuo drink quindi tu magari puoi utilizzare dei distillati o materia prima diciamo eccellente e poi se vai a utilizzare un ghiaccio di bassa qualità vai a rovinare il tutto quindi la soluzione diciamo soprattutto se hai un soprattutto se devi fare delle serate ti conviene comprarlo non so se hai notato ci sono diversi locali che hanno appunto soprattutto le station quella all'americana hanno dei vasconi con separati dove appunto hanno due o addirittura tre tipologie di ghiaccio diverse quindi diversi di quanto vuoi appunto con la sezione e prova a fare vari test appunto con il ghiaccio e diversi di quanto puoi se la tua domanda è quale ghiaccio preferisci chiaramente io per lo stile di drink che faccio anche nei bar catering il ghiaccio al cubetto intero è l'ideale ci sarebbe sicuramente molto altro da dire appunto riguardo questo argomento è però il video è già abbastanza lungo il prossimo video sarà improntato invece sul come ordinare il ghiaccio quindi per un bar catering come organizzarsi e quanto ghiaccio comprare bene se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel pollice all'insù commenta e condividi con i tuoi amici in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere a darti maggiore contenuto gratuito approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire e mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella dindon in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche lo bisogno non resta altro che ci vediamo presto anzi prestissimo alla prossima ciao